8 presenze ed una rete nel borsino finora ottenuto da Giuseppe Fornito in questa prima parte di stagione con la maglia del Catania. Una partenza in sordina per lui è arrivato alla fine della sessione di mercato in prestito dal Trapani. Scuola Napoli è un sinistro affilato, quello che serve per una mezzala in grado di attaccare e dare del tuo al pallone. Si incastra alla perfezione il suo ruolo nello scacchiere di Prino Rigoli, che sta ritagliando per il giovane campano sempre più spazio dopo le prime gare di adattamento. Contro il Fondi è arrivata la sua prima ed unica firma stagionale, grazie ad un mancino da fuori che ha tolto tutte le ragnatele della porta avversaria, baciando la rete per l'illusorio 1-0. Poi l'infortunio è le quattro assenze prima di tornare contro Paganese e Messina. E' lui l'uomo della settimana dopo la gara di Foggia, perché quell'urlo strozzato nella gola dello Zaccheria è difficile, troppo difficile da digerire in casa Catania. Rovesciata perfetta, quasi alla Olli e Benji, solo che fuori da ogni logica di un cartone animato, la palla sbatte sulla traversa, rimbalza per terra, prima di ritornare nuovamente sulla traversa ed uscire definitivamente. Insomma, un fattore C che non gira a favore del Catania ed un fattore arbitrale che non vede gol. Già, perché quella palla è avvolta dal mistero di un gol no gol che poteva pesare sull'economia di un match come quello contro il Foggia. Insomma, ad un passo dal sogno per Giuseppe Fornito sarebbe il titolo perfetto per lui, che resta però uno degli uomini più in forma del momento per un Catania, in cerca di conferme e di punti importanti in vista del futuro.